Siamo qui in incognito per un'operazione di terrorismo medico, di guerriglia culturale. Berlusconi porta le frizze di colore in Libia, noi portiamo la V di V-Day sopra la festa democratica. Stay tuned! Due anni fa, proprio qua fianco, chiesi a Veltroni cosa ne pensava del V-Day, diceva che lui aderiva, aderiva e scappando. Ora, due anni dopo, siamo nel cielo di Reggio a ricordargli che lui non ha fatto semplicemente niente per Parlamento Pulito. Lui è il PD-L. Caliamo il cielo per demolire definitivamente questo sistema becelo dei partiti, fatto di mafie, corruzione e massoneria. Ci buttiamo per ricordare che due anni fa, 350.000 persone in circa due ore e mezzo, tre ore, firmarono per mandarli tutti a casa, questi condannati, corrotti, delinquenti che siedono in Parlamento a scrivere leggi per i delinquenti. Ormai siamo in grado di sostituire con normali cittadini questa marmaglia di delinquenti e questo è l'obiettivo che bisogna assolutamente raggiungere. Ormai siamo in grado di sostituire con normali cittadini e questo è l'obiettivo che bisogna assolutamente raggiungere. Ormai siamo in grado di sostituire con normali cittadini e questo è l'obiettivo che bisogna assolutamente raggiungere. Ormai siamo in grado di sostituire. Ormai siamo in grado di sostituire.